Nuovo guasto al termovalorizzatore di Acerra. Assaltare ancora una volta è la linea 2, ripristinata solo 15 giorni fa. I tempi necessari per effettuare la manutenzione si conosceranno nelle prossime ore. Il rischio di una nuova emergenza di fiuti per il Salernitano ora è dietro l'angolo, visti anche i numerosi problemi riscontrati dall'ex stir di Battipaglia. Dallo scorso maggio ad oggi, fra interventi di manutenzione programmata e rotture improvvise, l'inceneritore in provincia di Napoli ha funzionato su tutte e tre le linee solo per poche settimane.